Buongiorno. 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 Sa, ce ne sono tanti altri liberi di scompartimenti. Ah? Ah! Sì, sicuro. Mi scusi? Eh? Ah! Perdonalo. 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 Aldias. Chi... Chi devono sta facendo? Perdona, perdona! No 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 no! Perdona, 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 perdona. Oh, oh. Che c'è? Altra galleria. Chi sta toccando? Stop, sei tu! Di chi è questa mano? Com'è andata? Chi mi sta toccando? Perdona. Buongiorno. Buongiorno. Oh, my God. Mi querido. Mi querido. Mi querido. Mi amore. Mi amore. Perdona. Buongiorno. Buongiorno. Perdona. Buongiorno. 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 Grazie a tutti.